Questo, quest'oggi è un intro un po' particolare perché ho bisogno di, ho bisogno sempre io comunque, posso dire, questo è un po' il mio momento Non dico niente, giuro Allora, ho bisogno di squisire con voi riguardo una questione, non c'è una vera risposta Sandro, quindi puoi finalmente mettere a piacere la tua luna in pesci, non sei sotto esame, ok? Non c'è un giudizio Trovo, sai la frase, si stava meglio quando si stava peggio, ok, la contestualizzo Ti faccio un'opzione, tipo, allitighi con un tuo amico, ok? E magari non vuoi sapere cosa sta facendo questo tuo amico in questo momento La tecnologia, le nuove tecnologie, ciò che noi abbiamo a disposizione oggigiorno fa sì che non siamo noi che non possiamo ricevere informazioni Ma siamo noi a dover scegliere di non voler seguire quei percorsi cognitivi Cioè una volta magari non lo vedevi più perché moriva di peste dopo due giorni, capito? Non perché la vita si accorciava prima, adesso se tu non vuoi avere notizie riguardo qualcosa Deve essere anche un po' una tua scelta, vuoi perché magari... È proprio difficile a volte Guarda quei spoiler di Drag Race Totale, totale Impossibile non riceverli Ormai se la perversione del bevo il caffè amaro è diventata... non mi danno fastidio di spoiler Cioè me li puoi fa? Amo? Ma perché? A me danno un sacco fastidio Ma ci sono persone che zero invece, giuro Secondo me mentono... E ne conosco So per maloso, secondo me stanno un po' a menti quando dicono no a me mi fai di tutto E che mi sa che la spoiler fobia è un po' millennial comunque come cosa, no? Beh? C'è il spoiler da sola Perché la fobia dello spoiler è millennial? Perché noi avevamo una puntata a settimana della serie Esatto, ce l'abbiamo Non 13 ragioni perché, tutte le puntate in un secondo e lo spoiler qual è? Tanto ci arriviamo domani, non ho dovuto aspettare mesi per quella puntata Forse è il binge il problema che ha risolto un po' lo spoiler continuo, scusa E nulla, tu avverti questa Ti è mai capitato di trovarti nella situazione in cui hai percepito questo disagio che magari io ti sto manifestando adesso? Anche tu Marti Ma tu dici tipo silenziare i post o una cosa del genere? Eh però, nel senso tu sai che potenzialmente puoi arrivare a quell'informazione Cioè nell'ottocento, quando tu tornavi nella tua regione A meno che un piccione non sbagliava a strada e ti inviava a raccontare quello che faceva E tipo a Milano non potevi sapere che faceva Adesso Instagram, i social e tutto quanto Diventa molto una tua scelta personale Non arrivare a sapere certe cose Ok ma tu, nel senso, qual è la tua scelta? Non vorresti sentire, non vorresti vedere aggiornamenti riguardo oppure Non volerli Non li vuoi? Cioè mi piacerebbe che ci fosse in questi sensi una sorta di impossibilità di arrivare a certe informazioni Ok, però a prescindere dal fatto che tu abbia scelto di non volerli sentire o meno Certo, certo È che è assurdo quanto in realtà la tecnologia ci continua a dare il libero arbitrio Cioè una volta era vorrei saperlo ma tanto non posso Perché intanto arrivare a 40 km da qua vuol dire farsela a piedi perché ci stanno i calessi Sì, sì, sì Mentre adesso è il volendo posso vedere se Google Maps l'ha rintracciato per sbaglio mentre stava camminando Eh lo so, però dici però C'è comunque la possibilità di non vederlo senza che l'altra persona che in questo sia insomma S'accorga? Perché il tuo problema è il fatto che tu non vuoi che l'altro se ne accorga Eh sì Il mio problema non è quello, il mio problema è il fatto che io che l'altro se ne accorga o meno sono venuta a sapere quella notizia Il mio problema è le ripercussioni sulla mia psiche Ah ok Però abbiamo un sacco di filtri, cioè se tu non vuoi su Instagram per esempio, non vuoi vedere cosa fa tizio, tu puoi sentenziare i suoi post o altri Io non mettevo in dubbio la possibilità che la tecnologia ci dice puoi vedere tanto ma ti dico anche che se vuoi puoi non vedere niente, è sempre quel se vuoi Cioè una volta era non puoi punto, cioè non ti è dato, adesso è il se vuoi puoi ma se non vuoi non è che tu puoi non volerlo perché non ti va, perché è una tortura Perché te ne stai privando perché sai che non va bene Sì È quella la tortura, cioè vi è mai capitato di trovarvi in una situazione in cui dite madò che palle, so che potrei ma so che mi farebbe male quindi non lo faccio Sì, sì, ti capisco, però non così, cioè nel senso poi alla fine mi faccio male, nel senso anche se mi fa Zero ragazzi, ve lo giuro Ma io a chi sto chiedendo? Io quando mi siedo a questo tavolo del confronto, con chi cazzo sto parlando? Io L'ora esatta è offerta da Sandro Bob, il podcast È quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita È quando il dobbile ti mette in moto e la vita si incasina e tu vorresti solo staccare la spina È quella finestra sul mondo dove puoi guardare o essere guardato È quel bicchiere di vino che ogni tanto ti concedi ma che in compagnia ha tutt'altro sapore Io sono Sandro E io sono Lele E questo Questo è Bob Il podcast Ma ancora, me che ripete E allora hai silenziato alla fine? No amo, però sai chi silenzia a te adesso Oi Sandro Oi Come stai? Come stai? Tutto bene, tutto bene Tutto bene? Sì sì dai, andiamo avanti Ok, questa non è la frase di una persona che sta bene Ma siamo Andiamo avanti non è molto una Sto nell'anno prima dei 30, cosa può essere, cioè cosa ci può essere positivo alla fine? Il fatto che ci sei arrivato? Non lo so Che siamo vivi Che siamo qui No scherzo Sei una ragazzona in salute comunque, no? Cioè chi te fa invidia su invidia Infatti io cominciai a parlare Che ragazzi, sai che ti dico? Che se non ti attaccano i microbi ti attaccano l'invidia della data Eccoci, io tipo Francesca Mara, capito? Come va tu invece? Io, beh, la mia intro fa sembrare benissimo in realtà Sì che labile vorrei ma non posso, capito? No no, va tutto bene In realtà era una di quelle cose che volevo di chiacchieriamone Vediamo un po', però tutto a posto Sono contento del fatto che sia arrivato il caldo Sì, anche se ho paura un po' come io specifico e molti aiutateci Il regno del terrore di Sandro Cioè noi entriamo in una sorta di sauna turca Dove a te piace vederci che parli di Natale Mi è stata affibbiata questa cosa Non curanti di quelle che sono le circostanze, il contesto Ragazzi, questa analisi è sterile È proprio sterile No, allora sai cos'è? Sicuramente sai cos'è non è sterile? Il condizionatore Perché diciamolo, inizialmente E comunque si dice sterile L'hai detto tu Sì, lo sai, io sto vivendo Se noi facciamo quel cazzo di format del Voi dite bicchiere? Si dice bicchiere Che io dico ma che cazzo dice bicchiere? E mi fa morire Allora, l'anno scorso quando Sandro ci ha concessi appunto La possibilità di avere il condizionatore Si è aperto una specie di possibile true crime Una specie di piccoli brividi dei ragazzi morti nella Dependence Che so, ti piacerebbe che c'è anche quella sorta di melting pot Con la parola Dependence Perché si era scoperto il fatto che Come dentro le conserve di tu nonna Quando le fa sbadatamente Perché comincia a soffrire di demenza, Michela Ci può essere il botulino No, la paura che muode e magna queste cose col botulino Sandro aveva scoperto che esisteva Tipo gli uomini che cazzo ne so Lumpa Lumpa Però piccoli così Dentro i condizionatori che non si puliscono troppo spesso E quindi sia mai che ci esplodevano i polmoni Una specie di disisato No, last of us Amo il cordyceps E il cordyceps Non lo so, io non so cos'è Sì, sì, non è presente comunque Che il cordyceps ce l'abbia portata via Ora, dovremmo smettere di leggere le cose Riguardo i virus e la contaminazione su alfemminile.com Forse sì Però ecco, ci piace divertirci in questo modo Ti faremmo che lo dissi diciamo Che palle Oh no E che mi mettissi per un motivo Allora, oggi è mercoledì Sono le 19 Questo è un potevi non saperlo Esatto E come ogni potevi non saperlo Ripetiamo sempre quello che amo Spero che ormai tu lo sappia Perché se non lo sapevi È un buon attimo cucino Amo Che suz Allora Samua E la cosa che mi fa ridere È che parlerò indirettamente anche di true crime oggi Cioè no, nel senso La sto prendendo alla larga Un po' palesemente Però ecco Intanto Prima di addendrarci nel mondo della mia news Vi devo ringraziare un po' il popolo di Instagram Perché in realtà questa specifica news Comunque Ci è stata suggerita da tantissimi account diversi E nessuno sapeva che Li stavano suggerendo questa cosa Cioè c'è stato scritto Ora vi dico Aspetta, ma tantissimi account diversi Non è il nome dell'account No Da tanta gente Che bello mettersi in discussione E tra l'altro Quindi vi ringrazio perché avete proprio colto Nel Proprio nel segno riguardo questo Questo suggerimento Ok L'unica cosa che invece ho da consigliarvi È raga Attenti a scriverci Nella pagina di POV Di Instagram Perché a volte anche la Dani mi legge Cioè era palesemente una cosa Che poteva riguardare più me Capito? E no Però vedi la fortuna Che colpo di voi Io non entro spesso su Instagram Non hai letto Quindi ecco Vi dico raga Se avete dei suggerimenti specifici Magari scriveteci nei nostri personali Perché se no roviniamo un po' la sorpresa Per citare Zizi Che quando ha delle cose divertenti Da volerci con Zia Per poter non saperlo Ce lo scrive sul gruppo di Whatsapp Sì scrive su Whatsapp Come se Raga ho trovato queste cinque cose Che sono Se ne trova cinque Una delle cinque Per forza una che abbiamo scelto Quindi dico Vedete se vi posso interessare Adesso li sappiamo entrambi Uguale Uguale Netflix ormai da due settimane E si sta imponendo al pubblico Perché raga Cioè è proprio scottante Una serie che vi dico Io ho iniziato con un po' di Pregiudizio Forse si dice Cioè nel senso Netflix ultimamente Mi sta un po' deludendo Su alcune cose Ci sono dei momenti più alti Momenti più bassi Ma ultimamente Netflix Insomma lo stiamo notando tutti Un po' un galo No? E mi devo dire Qual cazzo Cioè baby reindeer E invece è il contrario Brava Un galo marcheggiato Un galo Un galo E non si dice così Dalle mie parti L'ho fatto apposta Sì cioè nel senso Dicevo Ultimamente non va benissimo A Netflix Secondo me Cioè non lo sto vedendo Proprio sulla cresta dell'onda A livello di contenuto Cosa? Tu lo vedi? Netflix Sempre meno Capito? E questo è il punto Posso dire una cosa Brutta brutta Secondo me Netflix Si sta Facebook Zittando Esattamente Mi padre Se ora gli togli Netflix Ti giuro Gli stai a togli la serotonina Gli stai a Pure mi madre Capisci Netflix Sta diventando Dei Facebook Uguale Sta diventando Noi ci abbiamo Anime roll Crunchyroll Un roll Qualsiasi Tipo Mi dici? No Sempre un sacco di belle cose Ma vabbè Dicevo Netflix in generale Sta secondo me Un po' Subendo il contraccolpo Di L'evoluzione delle cose Non so come chiamarla Ma insomma Non sta andando benissimo Baby reindeer invece è Secondo me Un attimo Un buon Un buon colpo Da parte di Netflix Che vuol dire il titolo? Piccola renna Cucciolo di renna Reindeer Reindeer E vi dico Io ho iniziato questa serie Con un sacco di riservo Perché dico No ma magari non mi piace Cioè non lo so Raga E invece col cazzo Cioè già dall'episodio 1 Col cazzo E raga ve lo giuro Godibile Non consigliabile a tutti Perché comunque penso sia Consigliato sopra i 18 anni Perché tratta di Argomenti molto triggering Cioè si parla di Violenza Di soprattutto Stalking Di fragilità A livello Trigger warning Comunque voglio parlare Con chi ha deciso Che ai 18 anni Siamo tutti pronti Cioè che cazzo cambia La giornata E questa è una cosa Che vuol dire Cioè nel senso Che secondo me però Ci vuole un po' di consapevolezza Nell'approccio a sto prodotto Che molti ai 18 anni Non c'hanno E palletemente E qual è il fatto Cioè si è parlato Un sacco di questa serie Perché tratta di un tema Molto forte Che appunto è quello Dello stalking Perché la storia Di Baby reindeer È il protagonista Questo ragazzo Interpretato da Richard Gadd Poi arrivo Cioè ce l'ha spiegato Veramente un sacco di roba No Ok Non il tuo tipo No 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 Non il tuo tipo E vabbè Viene perseguitato Stalkerizzato Da un'altra donna Cioè da una donna Marta Il personaggio Si chiama Marta E voi mi dite È Marta o è matta? Marta Marta la matta È Marta la matta Palesemente Ma ragazzi MM C'è anche MM Proprio corbotto E anche MM Martina Maiello Infatti lei è Marta la matta Solo noi non abbiamo Le iniziali Dei nomi e cognomi uguali C-C-M-M Io Di tristezza Di T A-C figure Tipo un drago Un po' il D Quando sei raffreddato Quindi questa serie Uscita l'11 aprile Si compone di 7 episodi Dura una mezz'oretta Circa l'episodio Quindi in realtà Si vede anche velocemente È un lungo film in realtà Mezz'oretta episodio Tipo c'hai due episodi Da mezz'ora E due da 69 minuti No sono tutti Come capita No ma Scorre eh Sono tutti da 30 minuti Sono quasi Se non sbaglio Ce n'è uno da 37 Se non sbaglio Attenzione Ma raga quando lo vedete Capite Perché dura 37 E c'è proprio Non è un zelico? 9 c'è una fino all'inizio? No che proprio c'è C'è sto episodio Che è tipo raga Un po' shocking Cioè vi devo dire A me mi ha un po' toccato Perché soprattutto parla Del passato del protagonista Che tu non te l'aspetti Fino a quel momento Cioè tu empatizzi Sì è un lungo flashback Tu empatizzi un po' con lui Per tutta la storia Perché comunque Lui è la vittima di stalking Capito? E capisce a un certo punto Che non è tanto vittima Ma non vi voglio dire di più Cioè in senso Guardatelo perché Veramente La cosa che mi ha toccato Riguardo questa cosa Sono L'ho divisa un po' in tre punti Possiamo dire Intanto il punto di vista Come se si è antica Sandra Sì Il POV Secondo me è molto interessante Perché come abbiamo già capito Da quello che vi ho detto È È un uomo che è vittima di stalking E non viceversa Cioè nella narrazione Noi siamo un po' abituati Che è la donna Quella stalkerizzata E non l'uomo Ahimè Ci stai facendo anche un po' Un invito a guardarlo Quindi questo film Il tuo è positivo l'esito Facci uno spoiler Vero consiglio totale Consiglio Poi anzi Se siete allineati Con i miei gusti E scelta proprio tematica Anche di genere Perché è una black comedy Ma anche dei Molti tratti del drama Del thriller Quindi cioè Se vi piace sta roba Andate ragazzi Se Sandra in passato Non vi ha deluse Questa è l'occasione Esatto E soprattutto è molto british Perché sono tutti Parlano tutti inglesi Quindi se volete sentire Un po' di accento british Dopo cyber Soprattutto dello scottish Sì 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 Parlavano anche Era ambientato in Inghilterra Cioè Soprattutto l'accento scozzese Dicono un sacco di shite Ok Allai ma shite Parlano malissimo Li odio Però ecco È comunque interessantissimo Secondo me Fliberg invece di dove era? London E mi piace di più Adoro Mi piaceva di più Infatti bravo amo Secondo me ci sono dei Soprattutto all'inizio Cioè nell'impostazione Di quelli che sono I primi episodi C'è questa impostazione Alla Fliberg Di scrittura proprio Cioè è molto importante Comprendere il personaggio Del protagonista È lui che veicola tutto È lui che narra tutto Un po' come Fliberg Fa all'interno della serie Cioè proprio Si vede proprio Che il punto di vista Autoriale È proprio forte All'interno della serie E il punto in comune Con Fliberg È anche che è una serie È tratta da uno spettacolo teatrale Proprio come Fliberg Che parla della vita Del protagonista Cioè quindi è una Trasposizione seriale Di uno spettacolo di teatro Che però parla di esperienze personali E il protagonista Non è solo Il protagonista È anche quello che ha subito Lo stalking Capito? Cioè Richard Gadd È autore Creatore Della serie Ma è la vittima stessa Della storia Capito? È quello che ha subito Tutto ciò E questo ha scatenato Veramente la chiacchiera in sé Ma ci arrivo col tempo Però posso dire Da una pista teatrale Da una pista teatrale Può nascere un bel film Ma non da un libro Cioè quando sono Piste teatrali Solitamente c'è sempre Questo riscontro positivo Dai libri invece Fliberg ha fatto La stessa cosa Cioè era prima Uno spettacolo Una comedy teatrale Con un solo personaggio Che era Fliberg E poi c'è diventata Quella serie meravigliosa Che noi tutti conosciamo Fabricante di Lachim Invece sappiamo Che fine ha fatto È un percorso È un percorso E quindi dicevo La cosa secondo me Più interessante Oltre al punto di vista Che è un po' alternativo Il fatto che sia un uomo A subire violenza E in generale Abbiamo tutte le ripercussioni Legate al fatto Che è l'uomo Ad avere questo tipo Di problema È molto particolare Anche con l'approccio Alla polizia Non vi sto spoilerando niente Questo è tutto Quello che succede Nel primo episodio Nei primi sei minuti Quindi Carmela Non me veni a di Che sono nero Ma soprattutto Te lancia In cui c'è veramente È da una parte È dilaniante Per chi guarda Perché è molto Toccante Cioè Si vede che Il protagonista Non si fa sconti Cioè si fa vedere Con una vulnerabilità Che tu dici Cazzo Che coraggio Cioè lui ammette colpe Fa cose Che dici Oh bitch E ti devo dire È proprio toccante Al punto di essere toccante E empatizzi molto con lui E ti chiedi molto Soprattutto Per tutti e stati gli episodi Un po' chi è la vittima E chi è il carnefice Ed è un po' il centro La domanda principale è Ma chi è la vittima Chi è il carnefice Ti posso chiedere Qual è stato secondo te L'elemento che ti ha traghettato più l'empatia La fotografia Le scene I dialoghi La scrittura La scrittura completamente Cioè secondo me è scritto proprio bene Cioè nel senso Cioè proprio Si vede che Con scrittura che intendi Dialoghi? Sì sì Ma sono anche un sacco di monologhi Perché lui parla molto direttamente alla camera Capito? In questo quindi c'è Fleabag Esatto Non c'è proprio uno sfondamento della quarta parete Perché non interagisce con un altro E poi guarda in camera Come in Fleabag Però cioè in generale C'è proprio questo dialogo Però presagisce il pubblico quindi Cioè presagisce il pubblico guardante Sì sì Diciamo che ti senti molto dentro Però non c'è La quarta parete rimane intatta Non si sfonda Guardaci Aroma 3 che chiacchieriamo Non si sfonda Mi pare mai Non si sfonda mai Non ho ricordi di sfondamenti Però ecco La cosa che però ti chiedi Praticamente fin dall'inizio Si vede che lui ci ha pensato Veramente tanto A questa cosa Che ha proprio cogitato Su sta cosa E lo E raga veramente Il dilemma Che va un po' decifrato In questi sette episodi È Ma chi è la vittima? Cioè chi è più sbagliato? Chi ha fatto peggio? Chi è il carnefice? Chi è la vittima? Perché cioè Lo so che Detto adesso Ma è strana sta roba Raga vi invito a guardare Perché cioè Non sapete cosa nasconde Il passato di questa persona E niente La cosa principale però Quello che ha destato Più scalpore di tutti È proprio un episodio specifico Che è quello scioccante Di cui vi dicevo prima E lì si tratta proprio Di un tema Forse da una parte Ancora più Esplicitamente Turbante Rispetto a quello Dello stalking Perché cioè Si vedono proprio Un po' di violenza Capito? Non è Però vi ripeto Non vi voglio far spoiler È veramente molto È veramente molto profonda La situazione Scalpore Riguardo baby reindeer È il fatto che È tratto da una storia vera Cioè questa è la storia Del protagonista Di questo Richard Gudd Lo sai a priori? Sì perché Al minuto due Compare la storia Non è tratto da una storia vera Ma This is a true story E questo Ha Mosso un po' L'internet Perché proprio Questa è la È come è andata Non la stiamo ormanzando Questa è una storia vera Cioè la serie Ha questa Premessa fondamentale Questa è una storia vera E Questa è una storia vera È Cioè La narrazione parte Da una domanda Di un Di un poliziotto Che gli fa Ma perché hai denunciato Solo dopo sei mesi? E lui Frizzato E perché è una domanda Molto specifica Che poi voi Capirete il perché Perché è molto più profonda Cioè non c'è solo questo Cioè non È molto la superficie L'atto di stalking Poi sì C'è da scavare molto Nella storia E Che succede? Quello che ho trovato Un po' ironico Soprattutto Prima di dirti Lo scalpore legato a internet È stato il fatto che Il protagonista è un comico È un aspirante comico Che si chiama Donald Dan Danny Dan Questo è il nome del Del personaggio comico Cioè di un po' di Del dipintus Capito? Non so per fate capire E E ho trovato ironico Ma in realtà anche Dolce Amaro Il fatto che tutta La storia si basi Sulla risata Cioè c'è un'importanza Una Un centro Veramente importante Riguardo il ridere Perché il personaggio Il protagonista vuole Ricevere risate Vuole causare le risate Del pubblico Vuole far ride in teoria Ma in realtà la sua È un'ironia molto strana È un'anti-ironia Cioè vedrai Tipo Black Humor Esatto Ma soprattutto È molto performativa Usa degli elementi di scena Degli oggetti di scena Non è un comico classico È molto performativo Quindi lo vedi Che non è un ridere Alapintus Che ti dice la cosa Che fa ridere È cagato E tu ridi È diverso Nel farlo Ma soprattutto La cosa Che a me ha fatto Proprio riflette È che Il simbolo Invece della stalking È la sua risata Rumorosa Molto evidente E ho pensato Cazzo Vedi Cioè questo vuole Causare la risata A una persona Cioè alle persone E quella che ha davanti È una persona Che ride tanto Ride forte E secondo me Rappresenta molto bene Il centro della cosa Perché lui è Da una parte impaurito Vuole allontanare la stalking Ma dall'altra parte È un po' ossessionato da lei Cioè gli piace Essere visto Essere guardato Da questa Che simbolicamente Ha questa risata forte Cioè quindi in realtà Lei gli dà Quello che lui vorrebbe Vabbè dai ma Io vi lascio con questa cosa Cioè questo è Quello che vorrei Rimanesse secondo me Della serie E poi fate pop Se non vi dico un cazzo Raga non veramente Non ho detto niente Anche che bello Il fatto che ti fa riflettere Semanticamente Tu che cosa significa ridere Significhi ridere Cioè ridere Eh sì c'è lui La risata che ha causato È la risata della sua nemesi Di quella che dovrebbe essere L'antagonista La sua nemica Sì ma anche il fatto che Cioè anche quel Il concetto del La gente che provoca Spesso risate È quella che soffre di più Ok Cioè praticamente Lui vuole far comico E vuole far ride Ma c'è la storia di lui Che subisce queste cose Raga lui Lui è crepato totale Cioè voi non avete idea Di quanto cazzo È distrutto Cioè se tu pensi Che ti è successo qualcosa A Ricciardini E ne è successo a tre di più Io veramente Cioè si arriva un po' In un mondo di competizione Dove riusciamo a far emergere Le nostre emozioni Questo è un film Che ci permette di farle Tacere a questo Esatto Non mi è successo Cosa è successo Il fatto è che Siccome è una storia vera Non è solo tratto Da una storia vera Ma si spaccia per Questa è una storia vera Cioè che è un passo Ancora più in là Riguardo questa cosa Internet è esploso Perché hanno iniziato a dire Ma cosa è successo veramente Cosa è stato romanzato Comunque la serie Netflix Quindi per quanto Perché si è chiesto Il coso comincia Con è una storia vera E amo perché In realtà a livello Di scrittura non possono Ma proprio a livello logico Una serie TV Non può prendere Solo fatti realmente accaduti C'è deve essere Un rimaneggiamento Dei fatti Quindi la prima domanda Che il pubblico si è chiesto è Che cosa è vero E che cosa è stato romanzato Vabbè amo È come quando tu mi dici Che questa è vera crema di pistacchio So che vuol dire Almeno sopra il 20% Bravo Esatto Quella cosa lì Quindi se tu arrivi A una sorta di verità Tipo 80% Al certo è il fatto Che tu hai fatto Cane per sbaglio l'attrice Ma non voleva accadere Non è mai successo Esatto Cioè c'è comunque Un rimaneggiamento delle cose Quindi la prima domanda Che il pubblico si è chiesta Quello di internet Quello un po' pazzarello Un po' reddit Quello sangue È totale Ma cosa è successo Veramente cosa no E si è iniziato a scoprire Che a quanto pare Questa Marta Che è la stalker Era più grande Nella storia vera Massa Massa Ci sono delle cose Che sono state cambiate Ma al punto in cui L'autore è intervenuto Ha detto raga Quello che è stato Quello che dovete comprendere Riguardo la verità Dello show È che la verità È importante Se Cioè è stata mantenuta Cioè come in realtà Lui ha regito Quello che ha pensato Riguardo i determinati fatti Il resto È stato rimaneggiato In modo tale Anche da tutelare Le persone coinvolte Cioè comunque raga Se parla dei crimini Cioè sono È una cosa perseguibile Per legge Non è che possiamo Fare i nomi e cognomi Ma le sa Quindi non si sa Chi sono Adesso arrivo anche a questo Non voglio Non voglio attaccare Questo ragazzo Perché non è che nella vita Ci dobbiamo sempre giustificare Per tutto quello che facciamo Certo lui ha fatto un film Magari potrebbe Una cosina di più Però potevi dire La verità e il motivo Quelle fatti è vera Cioè nel senso Se sa Io immagino Tu dici come tagline Cioè tu o Martina Non commentereste mai Una cosa del genere Per gli studi che avete fatto Potete immaginare Che dietro quella È una storia vera Ci sia questo ragionamento Ma io vedo Un'amica di mia madre X Che fa Sotto a un commento di Instagram Che creda tutta Però cioè Non è vero Sì cioè nel senso È vero La percepisco Capisco sì sì Marolina e figlio Una delle critiche Che è stata mossa alla serie È stato proprio questo voler Cioè è diventato proprio Un trademark Mark c'è una cosa specifica Una peculiarità della serie È essere una storia vera Bola fambola catch Esatto Totalmente Comunque Netflix E vogliamo un po' Attirare il pubblico Però quello che ti voglio chiedere È secondo te Non specificare Che è una storia vera Avrebbe portato Un effetto diverso Farò alla fine? Perché secondo me Non tanto Capito? Oppure non farlo Cioè potevano anche non farlo Allora Il fatto che sia una storia vera Sicuramente attira l'attenzione Non parliamone Cioè nel senso È ovvio che se tu leggi Che è una storia vera Sei un po' Oddio Però scusa E poi soprattutto Quando vedi la negatività Della storia Cioè quanto diventa brutta La storia Lo metterei troppo alla fine io Cioè se io fossi un regista Fare in modo che Tutti si affezionano E fanno E poi alla fine comunque Ho sofferto trovo Però se sei Cioè se sei un autore Devi essere già famoso Ma sì ma stiamo immaginando Ma quando faremo Farò è un film mio Ma quello che ci credo Come ti consiglio qui Io ce casco No ma soprattutto Quello che invece Su cui vi voglio far riflettere È un po' Perché è stato molto criticata Questa scelta Ma nessuno si stupisce Che Netflix faccia una roba del genere In realtà E quello che vi dico È anche solo Sarebbe una storia su Netflix? No No è su Prime Infatti volevo un attimo Me ne senti ricordate Bravo Sandro e Marti Ma soprattutto Quello che vi dico Togliere la scritta Questa è una storia vera Non so se avrebbe aiutato molto Perché da lì a comprendere Che i fatti sono veri Il fatto Raga È una trasposizione Di uno spettacolo teatrale In cui lui dice Palesemente A me è successo questo Questo e questo Quanto tempo ci metteva L'internet a scoprire Che era tratto Da uno spettacolo teatrale Dello stesso autore Che è anche il protagonista Della storia Eppure quello che ha vissuto i fatti E quanto ci avremmo messo A comprendere che in realtà Era tutto in parte vero? Poco Però da una parte ti dico Quanto Quanto in realtà C'è bisogno Al giorno d'oggi Soprattutto nel mondo Del cinema O se ci fosse stata Tizia avrebbe detto Del cinema Trovare una specificità Del genere Per essere guardati In un mondo così frammentato C'è bisogno Un po' di un catchy Così forte A parte che già la tematica Lui viene stalkerato da lei Cioè amo Già ho fatto play E voglio capire che mi dici Totalissimo Per cui lo dico Da una parte Non ci aspettavo Io non mi aspettavo Una mossa diversa Da parte Netflix Cioè ha questi meccanismi Che deve comunque Attirare l'attenzione E diciamo che però C'è riuscito un sacco Ma il problema è che Si è andato un po' fuori Io l'ho troppo guardato Questa cosa Si è andata un po' fuori Dai binari la situazione Perché oltre a scoprire Cosa è vero Cosa è no Ci si è iniziata a chiedere Ma chi sono le persone vere Cioè se Richard Gadd È lo stesso che ha Scritto la serie E ha recitato Ed è lui il protagonista Di tutta Stammaradan Chi cazzo sono gli altri Perché gli altri Sono tutti attori Quindi l'internet Quello un po' pazzarello Ha iniziato a dire Ma chi è Marta Ti immagini Ti immagini l'attrice Ma sono veramente io Marta Era una mazzarella Ah ma è successo Cioè nel senso Perché ascolta No scherzo Non è Non l'attrice Però Marta si è appalesata Cioè il fatto è questo Hanno cominciato a dire Marta potrebbe essere questa Potrebbe essere quest'altra E gli autori In generale Tutta la truppa Della serie Inizia a dire Ragazzi Marta è stata cambiata In un modo Molto profondo Cioè al punto in cui Abbiamo iniziato Richard stesso dice Ho anche pensato Che lei magari Vedendosi Non si potesse Anche non riconoscersi In questo Sì Tipo Anna Delvi Con lei Che sono identiche Sono diversissime Guarda Vi riporto solo Quello che lui ha detto In varie interviste È stato un po' Un lavoro Cioè delle varie interviste E la cosa è Andata un po' fuori controllo Perché non c'è solo Un personaggio Da scoprire Come quello di Marta C'è anche un altro personaggio Che se guardate la serie Voi non vedrete l'ora Di scoprire Chi è nella vita vera Ve lo giuro E anzi Forse è più Quest'altro personaggio Il problema di tutto Cioè scoprire chi è È ancora più scottante Che però mi sembra Che tu non ce lo possi dire Ah no perché vi farei Uno spoiler gigantesco Sandro non ce lo può dire Quindi no Ve lo guardate Il fatto è questo È che si è iniziato a dire Ma chi è Marta Chi non è Raga ci sono proprio Un sacco di teorie Riguardo chi è la vera Marta Sui social Soprattutto su Te pare Su TikTok E alcune sono assurde Perché sono palesemente fatte Con l'intelligenza artificiale Si dico no raga È troppo Addirittura Ci hanno messo in mezzo Anche Sicuramente qualcuno Mi scriverà Raga Marta Sigrest Totalissimo Ma può essere Che quella di me contro te La situazione Ma quella volta che Quello di Dirette alle 8 Sono stati a tua casa insieme Non è che hanno parlato di questo C'era Marta C'era anche Marta Quindi quello che succede È che la situazione È andata un po' fuori controllo E Richard Gard Stesso ha scritto su Instagram Raga smettetela di cercare Chi sono le persone vere Perché non è quello Il punto dello show Cioè io Volevamo dare un'altra Cioè una cosa diversa Anche se vi posso dire Amo De che te stupisci Come si chiama sto regista Me lo ripeti Richard Gard Richard ma perdonami La gente al giorno d'oggi Tu fai un prodotto E lo riusa come cazzo vuole Ma secondo te Non avessi scatenato Esatto Cioè metà del pubblico Devisato True Crime Che ha smesso di ascoltarla Questa cosa Infatti è per quello che ti dico Oggi parlo di True Crime Perché la mentalità Dei fruitori È quella dei True Crime È investigativa Ma certo Noi siamo i detective Dell'internet C'è un sacco di gente Che ha fatto criminologia Che finalmente ha fatto Dai Non ti dico Cioè la vera Marta È uscita proprio Cioè si sa proprio Chi è a questo punto Perché Non hai fatto divertire Molto Ti posso dire Non voglio E leggermi A persona migliore E reggermi A persona migliore E reggermi A persona migliore E reggermi A persona migliore Degli altri Però io non ho voluto Nemmeno sapere il nome Desta persona Non la dirò Pov Cercatevela se volete I don't care Ma che avresti fatto Eri stiamato la testa di maiale Insanguinata C'è che avresti fatto Se è stato detto No ma non dovremmo dire I nomi delle persone Non si fa Il fatto che però Sta Marta Ha dichiarato Ha rilasciato delle interviste La più famosa Il Daily Mail In cui però sputtana Richard Gadd E dice Raga Voi non avete capito Io non lo vedo da 12 anni Io non somiglio Assolutamente all'attrice Io sono attraente E lei non lo è E un po' di grasso Marta nella serie Diciamo È sovrappeso Insomma Non rispetta È sovrappeso È un personaggio sovrappeso E quindi Quello che dice lei Io sono attraente L'attrice che fa Marta Non è attraente Con un po' di grassofobia Annesa Cioè insomma Varie problemi Non è la storia Di come sei diventata modella Era una cazzo di storia Ma chi se ne frega Di come cazzo fossi Nella storia Lei dice di essere un avvocato E dice Guarda io sono un avvocato bravissimo Quindi dovete temere Il fatto che io so ste cose Perché me farò sentì La vittima In realtà sono io Non è lui Una serie di cose Un po' preoccupanti Altre che potrebbero Cioè secondo me Dovremmo anche pensarci un po' Perché dice Io ho ricevuto minacce di morte Quindi dice Guarda Richard Tu stai usando questa cosa Per attaccarmi Quando in realtà La vittima Sono sempre stata io Cioè la situazione Non è proprio Ma te sei palesata Nel senso L'intervista è a Marta Ma non sappiamo il volto Cioè lei non si fa vedere Capito? Tipo le iene Esatto Parla tutta così E a quanto pare Lei sta pensando di Andare verso le vie legali Cioè vuole un po' Denunciare la situazione Vediamo che succe Ma il Io trovo tutto questo Molto scioccante Perché dico Da una parte Caro Richard Ce l'aspettavamo Un po' Una cosa del genere Soprattutto quando L'importanza Cioè quanto l'importanza Del fatto che siano Tutte cose vere È proprio palese Cioè nel senso È uno dei Uno dei Forse dei punti forti Della serie È proprio che sei tu Il protagonista di tutto questo E noi scopriamo Cosa si pensa Cioè cosa c'è dietro A tutta sta A tutta sta grandissima Storia del stalking Ma quello che ho trovato Che assolutamente È vero Cioè i numeri Da cui si partono Sono sicuramente La verità E Richard stesso Dice di aver ricevuto Più di 300 ore Di messaggi vocali Da parte di Marta 41.071 mail 744 tweet 46 messaggi facebook Attraverso 4 account fake 106 pagine di lettere Alessandro Raga 41.071 mail Alessa Zizi Quando si perde la videochiamata Ma che mi siete detti Che mi siete detti Noi chissà Perché io non stavo a niente E già due minuti Che manchiamo dopo Questo è quello che succede Cioè Quindi Marta e Zizi Totalissimo Marta un saluto Marta caparese Allora Marta Marta esatto Sia caparese E quindi ecco La questione è un po' Delicata Perché Marta stessa Comincia a dire Adesso adesso Monto un casino Adesso faccio un casino Ok E Raga Non succederà un cazzo Cioè secondo me Cosa fa che succeda E la serie è così Tanto sono la bocca di tutti Che ormai è andata Cioè nel senso Non credo che ci sia modo Di contenere tutto questo Però in tutto ciò Amo Te posso dire Che pau E E non solo questo Però mi fermo qua Perché secondo me Vi ho detto fin troppo E E niente No Sandro Io ho una voglia matta Di chiudere qua tutto E andiamo a vedere la serie Però ti posso chiedere Io ho avuto Un'unica cosa Che avevo visto Cioè Will Wush Aveva fatto una storia L'altro ieri Se non mi sbaglio Dove aveva detto Avevo sentito di questo nome Ma lui non parla proprio di niente Perché penso che volesse fare Un video reaction poi E ha detto Lui non se l'ha divorata Tutta in un giorno Ma si è sentito Di volerla dividere Tu l'hai divorata O ti sei sentito Di volerla dividere Quello che ti consiglio Io siccome volevo portarla Pov me l'ho bagnata Cioè nel senso Però l'ho fatto con l'intento Sapevo che l'avrei fatto Quindi mi ce l'ho messo Ho detto Che adesso me la guardo tutta La mia intenzione era Forse Lasciarmi gli ultimi due episodi Per il giorno dopo Ma non ce l'ho fatta E Vabbè perché sei Oh amo Ero dentro Ero dentro La narrazione E guarda Non sono un tipo da binge Quindi Secondo me è un tratto positivo Cioè Ti incolla Cioè Sei molto molto dentro A quello che succede Quindi che pau Ma da Io veramente Ho parlato veramente Veramente della punta Dell'iceberg Perché a livello tematico Sta serie Tratta di tantissime cose Molto importanti Sessualità Violenza Vergogna Vergogna del vivere Apertamente la sessualità Tabù in generale La precarietà dei giovani Raga veramente Se parla Soprattutto anche Un sacco Cioè per chi ha Una propensione artistica Per chi ha mai pensato Di seguire una carriera Nel mondo In generale Di quello che è La creatività E l'arte C'è anche Uno sguardo su questo Su quanto sia difficile Cercare di sfondare Un mondo Molto molto Pragmatico Con una cosa Che invece di pragmatico Magari ha poco niente Come ad esempio Lo stand up comedy Capito Cosa vuol dire Cercare di fare il comico Oggi E raga veramente E poi si parla Un sacco anche Cioè c'è pure Una parte legata A internet Io ho trovato Proprio tematicamente Molto molto attuale Tutto questo E niente Guardate La vi piace Sicuro Però se piagne Io ve lo dico Si piange Una domanda per te Se tu hai detto Che non si sa bene Chi è il carnefice Per te Chi è il carnefice Di questa storia O il fashion carnefice Non è spoiler Ma io non lo so Allora Un carnefice C'è sicuro Ma non te lo dico Chi è Cioè non te lo posso dire Perché sarebbe spoiler Quello che secondo me È il vero carnefice De tutto Una risposta potrebbe essere Che esistono carnefici Per situazioni diverse No quello che secondo me La risposta è Sicuramente non Marta Cioè io penso Che lo show Ci voglia di sta cosa Che lei ha le sue colpe Ok Ma tantissime È palese Però non solo Cioè non è solo colpa sua Sandra ha empatizzato con me Ma raga Che una volta Amo te lo dico Ha scritto Scritto Questo tipo di grinder Finché ha detto Per quello Un po' mi è dispiaciuto Legge di Marta Che dice No io sono 12 anni Che non lo vedo Non è tutto falso No sono io la vittima E amo Secondo me è un po' Il cuore della serie Che sei tu la vittima Infatti Cioè non capisco Perché se ne è lamentata Perché secondo me Il messaggio dell'autore È che Raga ve lo dico Sai quando Adele ha rilasciato Someone like you E al mondo Si è palesata Il fatto che Spero che tu Troverai qualcuno Come Io troverò qualcuno Come te Cioè in generale Io ti auguro I wish nothing But the best for you Cioè quando ti lasci Con una persona A cui vuoi tanto bene Gli auguri Solo che il meglio Nonostante il dolore Che vi siete fatti Perché magari potresti Non essere tu Il motivo per cui Lui ottiene il meglio Esatto Capito Perché tu capisci La coscienza Quanto è profondo Il pensiero di dire Guarda nonostante Mi stai lasciando Nonostante tutto questo Non può andare avanti Io ti auguro il meglio Non sto dicendo Che la stalker È solo un La stessa profondità Di pensiero Cioè c'è lo stesso Tipo di approccio Profondo alla cosa Cioè di quanto L'autore stesso Abbia pensato E ripensato E rimuginato Su sta cosa E poi raga Il finale in sé Quello della serie Cioè capito Simbolicamente Non è proprio Secondo me Non è proprio Chiaro Come finale Però se ci si pensa Un po' di più Si arriva a una conclusione Che ti fa dire Capito Vabbè Però non dico niente Sto veramente Già vi ho detto troppo A chi dà fastidio Gli spoiler Sto infastidendo In questo momento Quindi scusatemi Servirebbe veramente Per Sandro Fare un side prodotto Dove noi commentiamo L'opera in questione Perché si vede Che Stefano Ti posso dire Se il tuo intento Era interessarci Amo Io vorrei Chiudere tutto quanto Non voglio parlare più Non voglio parlare più Delle cose mie E voglio andare a vedere Però capisco Perché quando Anche Salber Non ti ha animato Così tanto No Sì perché poi Lì mi sono concentrato Un po' sullo shocking E di qua di là Qua mi ci sono visto Un po' di più Cioè Mi sono dovuto Entrare un po' di più E soprattutto ci sono L'attrice che interpreta Marsa È bravissima Bravissima Cioè Veramente ha fatto Nonostante il protagonista Indiscusso Sia Richard Marta è Ma cazzo Ma pare vera Cioè nel senso Madon E lei matta col botto Completa Cioè proprio completa Uscita di testa Ok Però ecco Vai Vai Sandro Metto sto zitto Speriamo Scriveteci nel senso Sandro Sai che ti toccherà Dialoguare con un sacco di persone Grazie ai quali tu Hai fatto arrivare questo Sì ma poi soprattutto Anche quelli che Voglio parlare anche con quelli Che invece l'hanno consigliata Perché c'è qualcuno Che l'ha vista prima di me Io sono arrivato un po' tardi Alla festa E quindi Scrivetevi Fatemi zap Soprattutto perché avete pensato Che sia interessante Che ne so Sandro è qui per risponderti Allora Io invece ti parlo Io in realtà Allora Sono puntate su puntate Che mi siete a questo tavolo Con Dove il mio sole in quinta casa Dice Non lo so A chi vuoi insegnare Chi cazzo sei Quindi ho detto Torniamo indietro Ricordiamoci un attimo Di essere ragazze Che nascono per il tè Per il gossip Per sedersi Soprattutto quello che riguarda Persone comuni Vi ricordate Ginny Mafferion Cioè comunque Quelle ragazze come noi Che ci hanno fatto serie a sto tavolo Dicendo Ma se è capitato a lei Perché Perché non a me Perché non a me Una ragazza di periferia Capì Qualsiasi Ma che ne so Ci sono uscito un bel impazzito È uscito un trend A proposito di ragazze di periferia È uscito questo trend Del ranking Delle cantanti italiane Mi è capitato No Pensavo delle ragazze di periferia Avete presente tipo Avete presenti tipo I dieci Le posizioni sulla fruccia Sulla verdura La fattora La Francesca Pichelin Esatto E adesso è uscito Quello con i volti Delle cantanti italiane C'è la Tatangelo E siccome mi è capitata L'improfico Io mi ero proprio dimenticato Della Tatangelo E invece c'è anche lei Nel ranking Prima Io l'ho messa Tipo quarta L'amo Quando una persona No no Proprio di cantanti Però sapete che ho messo prima Dai ragazzi E lo dì E certo Seconda madame Terza paola e chiara Ma che cazzo ha fatto sto filtro Dove ci sta madame La Tatangelo Paola e chiara Sì e quello è fatto Infatti ho pensato La Tatangelo è diventata Vabbè Allora ci mette un prelavanoni Cioè capito che te posso Se dobbiamo tornare indietro Voglio se ce ne mettiamo La Tatangelo è la bellucci della musica Cioè capito È vero bra Sì siamo noi Dove sei? Sto cercando da questa mattina Continua Ascoltami Allora La prima storia che vi porto così Al racconto Che ho scoperto Diciamo che Io ho trovato un titolo Che si chiama La professionista La professionista L'artificiera Professionista Se io ti dico Artificiere O artificiera Artificiera si dice Non lo so È che è uno di quei mestieri Che è talmente poco Maschile Cioè così tanto maschile No no Così poco consueto Che uno mai discute Se può essere pure Maschile o femminile Basta che c'è qualcuno Che lo faccia E che le bombe non esplodano Capito? Esatto La pompiera E L'artificiera professionista Nel senso Che ne so E allora La news Viene da Varese News Alessandra No Ma dove cazzo è Zizzi In questo momento? No Forse ad intervistare La professionista Lei quella col microfono Me lo auguro Cosa è successo? La settimana scorsa È successo un caso Di esplosione di carciofo C'è un carciofo Ma è veramente la settimana scorsa? Durante Durante Settimana scorsa Una e mezzo Molto Prima che mi fa So otto giorni Sbrocco Molto recente L'importante è che è molto recente Moltissimo È esploso un carciofo Raga Cioè durante la pulizia Di questo carciofo Allora Facciamo così Varese News racconta La storia della professionista La professionista Non artificiera Penso Nel campo Della medizina Perché comunque Centrerà Un componente chimico Potremmo dire Per questa cosa che è successa Quindi tipo Io mi immagino Il servizio È stato un carciofo A esplodere Nel centro di Varese Quella mattina Quando voleva solo Fare dei carciofi Alla giudia La povera giuditta Vicino a casa crespe Cosa Chi se ne frega Del carciofo Dove è Il colore mi dai Capito Il carciofo È esploso Sto carciofo Perché la professionista Racconta Questa signora Questa donna Che lavora nel campo Nel biomerico Racconta che Stava pulendo Questo carciofo A un certo punto Ha sentito Una specie di scintilla Con odore di petardo Quello che tu senti Citando la nostra Famosissima Torre del greco O Quando Vicino al 31 Senti già Quei mini ciccioli A terra Tutto si condisce Un po' Di questo odore Non lo so Da Vietnam Da Vietnam Da guerra Volevo intendi Da quella cosa Allà Mamma mia Guarda che poca cultura Su questo tavolo Non sei sul divano Dove ti passi Allà Amo Pam 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 Amo Vieni la baddie Baddie Alla amo Vieni la baddie Baddie E che succede Lei racconta Del fatto che Nel momento in cui È avvenuta Questa Questo attrito Con il carciofo Questa Tra coltello E petardo Esatto Che ha fatto Tipo oddio Che succede 3 2 1 Sto abbeccato Lo petardo Lei ha detto La prima cosa istintiva Che mi è venuta da fare È stato googlare Il perché Posso ditte Ma professionista De che Cioè ma tu non mi puoi Dicare che sei una professionista E che Varesi News La spaccia per una professionista E poi mi vai a googlare Su Varesi News Ah ma ti posso dire L'unico cosa che penserei Se mi esplode un carciofo in mano È Devo Dovrei continuare con l'Oxanax Cioè devo ricominciare Con gli assi depressivi Oppure forse deve scrivergli Hai capito Che sia io il problema Capito il carciofo E allora Le cose sono state due Cioè lei grazie a google A google Ha scoperto che La causa è il nitrato D'ammonio Che a quanto pare È molto tossico Per l'organismo Quindi se vedete Che vi esplode il carciofo Non fate come mi madre Che quando c'è Nitrite No no c'è Ma No mi madre Quando ci sta Che ne so Una cipolla Che è in marcia Per l'80% Toglie tutto E fa Beh questo 20 si usa Top No Mi madre direbbe Tu non sai che hai la fame E io dico Amo Raga Se avete un figlio Voi sbloccate queste cose Cioè secondo me Sono delle abilità Che tu non hai Però se hai un figlio Te vengono Capito Usa la cipolla Più che sbloccarle Perché qua stiamo A parla di petardi Capito Perché nel senso Qui dice Il nitrato Di ammonio È molto spesso Usato come fertilizzante Cioè non è che Il cazzo del carciofo Lo può generare Ok È a causa di tutto quello Che stiamo facendo adesso Magari per vari motivi L'urame in mezzo alla terra Per cercare di vita Certe cose Quindi è dovuto alla coltivazione Esatto Quindi può succedere E quindi Lei ha scoperto Che non è stata la prima Cioè lei Grazie a questa cosa Ha scoperto Di un fatto ante Precedente Però rilaviamo i carciofi Ragazzi Rilaviamo Stava pulì Stava arrivando al cuore Al cuore Stava arrivando il carciofo Si dice cuore Si dice cuore Soprattutto perché In parete news Quindi sicuramente Era il cuore Del carciofo Si è scoperto Nel 2013 Nel 2013 Che paura Io immagino Lei Io immagino Lei che googla E scopre Perché i carciofi esplodono E vede La storia Di Giulia Sala Non Zezilia Non Zezilia Zezilia stava occupata A fare altre cose Di Giulia Sala Non è una parente Zezilia stava in Ucraina Mentre questa Perché pelava i carciofi La amo Forse Forse una Tra le bombe Tutte e due Giulia Sala Ai tempi 2013 Una donna di Lecco Aveva 60 anni Di origine di Olginate Dovrei aver Perché parla La passata è morta E no Ai tempi Aveva 60 anni 2013 Ah no Scusa No ho dissociato Pensavo che era morta Dall'esplosione del carciofo No no Non era così forte Il bocco Però lei Diciamo che Racconta la stessa dinamica Quindi io vedo La professionista Empatizzare Nel 2024 Con la Giulia Sala Nel 2013 Capito Giulia Sala racconta Sull'eco news Stavolta Che succede Racconta il fatto Che mentre stava pulito Carciofo Che era molto duro Parole sue Ho dovuto fare forza Per tagliarlo All'improvviso Di botto Come quando scoppia Un piccolo petardo Ho sentito L'ortaggio Dall'ortaggio Uscire un odore di fumo Cioè Lei lo stava pulendo Allo stesso In un antico modo E pam Succede che poi esplode Quindi Forse la dedizione Della pulizia Perché il carciofo A pulire Ragazzi È tutta di cazzo Forse il fatto Che ci devi Mette precisione Costanza Lo smaneggi molto Forse ha portato Ma quindi Ci sono un sacco Di industrie di carciofo Dove muoiono Per esplosione Delle persone È esploso Un carciofo Ho capito Raga c'è una strada Qua Esattamente qui fuori Era qui Perché il carciofo È stato esploso È esploso In maniera forte Capito La cosa che mi fa ridere È che Se la professionista Nel 2024 Vuole soltanto Perché a me Degli hubris E tracotanza Quindi tutto quello Che vuole È andarmi a googlare Il perché Amo Giulia Sala Ha denunciato Il Carrefour Cioè nel 2013 Lei invece ha detto A me Io non voglio Solo farmela grossa E a varie news Di io comunque Lo sapevo perché esplode Lei ha detto Giulia Sala Ti ha fatto Ludo il culo E meno male Che non ha fatto Un podcast Perché Non avrebbe potuto Madonna carciofi esplosivi Io lo ascolterei Adesso Esplodo come un carciofo Lo ascolterei adesso Cioè sulla sua storia 25 puntate Da due minuti Su tutta la storia E adesso è una al mese Dava la chiamiamo Viamo a far spoiler Tiro un cazzotto Dopo due anni Se mi dici l'ultimo pezzo Di com'è andata E Questa era la storia Carciofi esplosioni Esatto Perché ho detto Se c'è una ragazza Tra di noi Che magari vuole fare Un petit déjeuner Per il suo Il suo consigno Per il suo Per il suo amore E gli esplode Un carciofo di fronte Ragazza Non è l'attrazione sessuale E Daniele mangia carciofi a colazione Che suzza C'è sta In inglese O meglio Off camera Prima di questa puntata Sandro mi ha accusato Di essere una persona giudicante Ma mai Sandro vi punta il dito Per via Per mila di voti Amo A quando poi Si può mangiare carciofi Fai che sto zitto Allora L'altra cosa che vi porto Invece Viene direttamente Da Torino News Invece Amo Io mi sono informato Tramite i giornali Oggi Daniele porta come notizia L'Italia Il giornalismo locale Le testate locali L'Italia Torino News Ragazzi Siamo passati da Varese Lecola Ora siamo a Torino Amo Non sei mai sceso Sotto il po' Quindi che sia un po' Non lo so Amo Sto ponendo resistenza Che ne so Aiutiamola a casa loro Che ne so Che è successo A Torino Allora L'episodio di cui vi parlo È del 2019 Ma in realtà Le conseguenze Sono in realtà Molto Sono contemporanissime Cioè Proprio A stretto giro Non volevo di una settimana Ma Sandro Mi ha fatto agita Che ci cominciano a dire Sette giorni e 44 minuti Sandro Mettimi agitazione Bravo Che cosa è successo La storia è di una donna Che Si ritrova Due uomini Sul suo letto Che non conosce Fare sesso Mentre lei Non c'è Perché li spia Dalla webcam Che aveva lasciato Dentro casa Mentre lei non c'era Facciamo un attimo Un preambolo Nel 2019 Succede che questa donna Che risiede All'interno di questa casa Ma non è la proprietaria È costretta a doversene andare Per un viaggio Cioè lei mi fa Amore ma non è andata Nel senso Però lei ha un gatto Lei in affitto Comunque mi dici Lei in affitto Ok Lei però mi ha un gatto E a quanto vale Questo gatto Non se lo voleva portacossè Cioè non voleva avere L'accollo del gatto Però lo ama tanto Questo gatto E quindi magari Molte di noi Si possono rispecchiare Dice Io non mi va di lasciarlo Con lo sconosciuto Lo lascio con la proprietaria Speriamo che la conoscessiamo Da quello che succede No Secondo me E quindi dice alla proprietaria Amox io ti lascio le chiavi Che comunque non so perché Non ce le avesse già Il proprietario dovrebbe comunque Avverne sempre una Un pochino di Di scorta Di scorta Ci vedete tu Amox Tre secondi Ci sono i pompieri fuori Ascoltate Oddio Era andato in balcone E che devo fare Devo frigere Ho usato un po' trappacqua Madonna Sandro Veramente Se un giorno si chiederanno Dove cazzo abita Sandro Cercate i pompieri Maggior zone frequentate Trovate veramente La coglione Che si perde le chiavi Castello news Errante di haul Che succede Lei decide Di lasciare le chiavi Alla proprietaria di casa E nel mente se ne va Però a quanto pare Questa ragazza Un po' sospettosa Anche qui Dove mi hai Scorpio amo Perché ti vedo un po' Che tu mi dubiti Cioè tu vuoi da fiducia Però poi Ti rilano Quindi che fa Comunque Il gatto non lo vuole lasciare Privo di Di attenzioni sue E le ieri ci insegnano Molti anziani Vengono torturati Dentro le case Mentre no Ci stanno situazioni Che tutti i figli di gente E poi vaffanculo Certo Quindi ieri ci metto una webcam Non me l'arrivava Cioè non me l'aspettavo Io non sei torturato Dalle ieri vedo No pensavo di essere Al sicuro Invece si fidavano Dalle persone sbagliate E quindi che succede Mentre lei sta Che ne so Appoggi i bonzi Immaginate Non a Torino Io charme immaginavo Ti posso dire Facci sapere dove Lei è uno charme Ma non hai idea E mentre stava Con la sua webcam Perché in camera sua La webcam Lei vede Questi due uomini Giacuere Sul suo letto Mentre fanno Fichi fichi Ah ok Proprio all'amore Sì sì Fanno all'amore I due uomini Due uomini Amo Quindi è una storia Un po' ok E un po' tanto Che c'è Che è successo Lei Tornata in città Sporge querela Lei nera Perché non era etero La coppia Esatto Ma che ti fai Devo cambiare letto Ma fatelo a casa Ti strogi Non a casa Fatelo in casa Ma non la mia Lei sporge querela Allegando foto e video E io la vedo lei E' presente quelli Che stanno Nella live di Chanti 74 chi è E fanno rec schermo Io vedo lei Che deve mettere Che fa Fa rec Schifo Ragazza Con queste prove Guardona Che fa Lei querela Sia il vicino Ma anche la proprietaria Perché il vicino Non avrebbe potuto avere Le chiavi Senza che la proprietaria Che città vicino Scusami Perché il vicino Perché la cosa è stata A quanto pare Che la proprietaria La proprietaria E il vicino Si conoscono Ok E quindi il vicino A quanto pare Ha tradito Il compagno Perché il vicino Ah era lui E dentro Ah non avevo capito Il vicino I due uomini Ah perché scusate Mi sa che mi sono sbagliata Cioè i due uomini Che stavano là Uno era il vicino Ok Che è amico Che è amico Che è amico della proprietaria La proprietaria Io immagino Che sia andata così Il vicino Ha fatto la proprietaria Amo io devo trombare Con questo Che sta qua a Roma Da due giorni L'ho beccato su Tinder No Roma Torino Ospiti Alla sua amica Che fa ospiti Lui fa ospiti Fammi sentire l'amica mia L'amica mia fa Guarda C'ho a casa di sta scemma Che mi ha lasciato le chiavi Per tenere il gatto Il gatto non penso Che vi dira qualcosa Se si vuole intromette Spostalo Nel senso Indandotilo le chiavi Quindi ha esse quelle là Ti so Il vicino Che è anche quello Cornuto No cornuto Scusami Il cornificatore Quello che ha cornificato E la vicina Per il fatto che No vicina La proprietaria Se è una cojona Che gli ha tre chiavi E lei ha Come riporta Repubblica Attualmente Si è sbrogliata Sta cosa Perché avevo detto All'inizio 2019 Ok Condannati Sia la vicina Cioè scusami Il vicino Che la proprietaria Ha otto anni di reclusione Per violazione Di l'amicizia Otto mesi Otto mesi Scusami Non è il senso Ma è il senso Che legge Otto mesi Però posso dite Cioè tu ti vai a fare Una trombata A casa di una E vai in carcere Tu vai in carcere Con il tipo che hai fatto Io nasco come un violente Presente l'audio Su tiktok La cocaina La cocaina E tu invece Tu che hai fatto Io ho trombato Il letto di una Manco con lei Manco col marito Con un tipo random Che veniva da Istanbul Che ne so E l'ho trombato con questo Ma tu ti rendi conto Ma il karma Il cazzo Il gatto No il gatto Il karma Il gatto Che è seguito tutto Allora Posso però Spezzare una lancia A favore della povera Inquilina In affitto Che è la proprietaria Che è la proprietaria Del gatto Che se ne asciuta Io dubito del fatto L'unica cosa Che ho da dire Dubito del fatto Che lei abbia installato La webcam O comunque La camera di sicurezza Perché era in viaggio Secondo me Era già lì Cioè ci sono un sacco Di proprietari di animali Che mettono comunque Un appoggio Per vedere Che succede al gatto Anche quando stai A favoritivo Quando stai Che ne so La notte dal freelance Oppure esci Per la giornata di lavoro Fai un check Vedi se vivo Quindi ecco Quello che ti dico è Secondo me Potrebbe anche essere Mia speculazione Che lei non abbia installato La camera Perché stava partendo Ma era comunque lì Capito La camera di sicurezza Quindi è cattiva Ma non troppo Cioè nel senso Ha solo fatto quello Che ha sempre fatto Quando è in giro È una camgirl magari lei Esatto Che noi lo sai Quel palo in camera Ce l'avevo da prima Cioè nel senso Capito che ti dico Facevo l'up dance No ma io lo posso pure capire Però magari Da quello che ho capito Della storia Invece lei Non lo so Non si fidava Quello che dico io è Io la voglio pensare come te Perché se tu Affidi il gatto tuo A qualcuno E poi non te fidi E sei costretta a mettere Una webcam per Mamma come vivi male La vacanza Vero Ma dallo direttamente A qualcuno di cui ti fidi No che lo dai a qualcuno E poi stai là Guarda con il nome Di un telefono Che ragione ti fa Che fai questa cena No sto a guardare il gatto Verissimo Ma voi avreste denunciato Sì Ma tu Scusami Ma tu riesco Ma nel letto mio Che schifo Uno e due Che cazzo sei Qui qualcuno è empatizzato Eh vedo Ma sì Ma da cado Ma io avresti detto Vabbè dai È andata così Ah 8 mesi Ah cioè Avrei fatto il casino Per 8 mesi di carcere Però questo dice molto Sulla giustizia italiana Cioè Qualche ero una persona Non ti faccio un cazzo Tu mi è il letto mio Però Come ti putto in gattabulla Più che altro C'ha capito che te voglio dire Dall'affittuato Alla proprietaria Ma a casa tua neanche Potevi da Cioè fammi capire Mamma no Ovviamente Io avrei montato un casino Totale C'è un senso Quello che vuoi L'ho scopato sul mio letto Alla fine Me lasci Me lasci una piotta E siamo tutti felici Cioè capito che ve voglio dire Cioè troviamo Troviamo una soluzione Capito Ma internos Cioè mettiamoci in mezzo I tribunali Le spese Cioè comunque C'è un processo costa Quindi Capito che ansia E invece no Dai nera Incalzatissima Quindi fateci sap Avreste denunciato Se no Cioè avreste pensato Dei fare tutto il processo In tribunale Oppure gli dici Oh bella stronza Vado Io non pago l'affitto penanno Top Cioè capito che te voglio dire Amo Famoci Ma pure due anni Uno per ogni persona coinvolta E se era un bunga bunga Amo Sta casa dammela un po' Capito Hai comunque dei vantaggi In mano Amica mia affittuaria Capito Eh ma quante cose C'avano in mano Quelli del video No Alessandro Secondo me tu L'avessi ricattato lui Tipo adesso tu Mi bagni Lo dico a tua moglie Capito Marito era gay Eh no magari pensavo Quindi nella mia testa Lui c'ha una moglie Capito E invece Deve Deve Normalizzare tutto Cioè io ho voluto Specificare No era la scappatina Era la scappatina Capito Capito Lui che Ha sempre avuto questa cosa Questo tarlo Però alla fine ha deciso Di non espletarlo Sposandosi con una donna E è quello che però A 40 anni torna L'animo gay Capito Qui qualcuno ha bisogno Di fare il regista E qui qualcuno ha bisogno Che le proprie cose Vengano un attimo cine Matografate La sua deve perdere Però posso dire Mi piace il fatto Che da più di 70 puntate C'è la narrazione Del Dani Come romanticizzi tutto Andiamo avanti Let's move on Inizio di Oggi c'è ragione Scendo Fra 24 ore Aspettate Non l'avrei mai detto Ma mi sto zitto Allora L'ultima storia Che in realtà Vi voglio portare In realtà È collegata C'è sempre un fattore animale E tra le menge Il titolo che mi è piaciuto Il gatto Esatto Due piccoli Serpenti Allora Il titolo che ho voluto Scegliere io Perché mi sono sentito Un po' Un po' giornalista Sandro Posso dire Un po' c'è Sara Mi sto sentita io Ero io oggi L'intervista Due pappagalli Sono implicati In un tradimento Tu mi dirai Inseparabili No Due pappagalli È una storia gay Anche questa Ospedale Due pappagalli In un tradimento No Questa cosa È avvenuta Fine marzo Inizio aprile In Turchia Ah pappagallo Perché tu dici Ma non mi capita Ragazzi Anzi la maiello Ma ha capito Top Ti giuro Ha visto la dottoressa Giona Stagione E mo' si sente Primaria Secondaria È succede in Turchia Verso fine marzo Se non mi sbaglio Inizio aprile Fatto sta che Un uomo Scopre il tradimento Della moglie A causa di due pappagalli Che ripetono le parole E lui Ha cominciato A sentire ripetere Questa No no Peggio Non so in turco Come sia Magari qualcuno lo traduce Mio marito Non è in casa Vieni I pappagalli Hanno cominciato A ripetere Questa cosa E il marito Ha cominciato A insospettissi Anche perché Non è Mangiamo ipoglicemico E c'è La frase che ripeteva Oggi chetogenica Magari Oggi cheto Ma che lo dirà Alla amica della palestra No Ti giuro No no ma Ti posso dire E parlavo di chetogenica L'altro giorno Con un'amica mia nutrizionese Davvero? Che paura Quello che ti posso dire Ma ti posso fare una domanda Era un'unica frase Mio marito non è in casa Vieni O era Mio marito non è in casa Vieni Vieni C'hai capito? No penso fosse Mio marito non è in casa Penso fosse un po' Pappagolloide la cosa Mio marito non è in casa Eh però C'hai capito Vieni Era una frase a sé O una frase Era tutti insieme Ah una consecuzio Tu dici Eh io me lo auguro Perché se ti sei fatto sgamare Sai a volte I pappagalli uniscono Anche più frasi Le dicono Le mischiano un po' Capito? Ah E chissà poi Vorrei sapere in turco Come suona Mi piace Che ne so Magari ha un suono Melodioso diverso Non lo faremo Maria Non lo faremo La moglie usava Pappagalli La cosa divertente È stata che Questi pappagalli Sono stati chiamati Come testimoni oculari Cioè A quanto Questo fatto È diventato interessante Perché c'è Questa foto Davanti al palazzo Di giustizia In Turchia Immagino Con quest'uomo Con questi due pappagalli Che fanno Andiamo a comandare Per esempio Tipo rovazzi col trattore Che dicono Andiamo a far panico Chi cazzo da me portare I due pappagalli Che dicono Mio marito non è in casa Vieni Che poi sai che dentro di me pensavo Quella scena Iper imbarazzante Non so se voi siete proprietari Di animali domestici Ma mi riferisco Soprattutto a proprietari di cani Che sono quelli più risaputi Per essere inclini A fare i giochetti No Il mio cane Voi lo sapete Indica quello che vuole Sa contare Neve fa di tutto Ma mai Quando c'è qualcun altro A guardarlo È tipo il bambino Che la poesia la sa Soltanto quando state voi di casa Certo Quante volte Mi madre mi ha fatto imbarazzare Che faceva i giochini davanti Ma anche davanti a voi Le prime volte Che magari Quando diventi di casa Sai che lo fa Ma il neve Essendo un uomo bilancia Si sente un po' Vittima Dell'ansia da prestazione Dello sguardo altrui Io immagino Sto qua che porta I due pappagalli Ma l'avvocato Che fa Vai E loro No Capì Cioè Tutto il giorno che ripetono Mi ha preso uno in casa Vieni E quel giorno non lo fanno E loro Che fanno Avrei Sparati i pappagalli Davanti a tutti Mi avrei di vaffanculo Giuro che dicevano diverso Esatto E immagini Fanno No Stai inventando tutto Che paura E nulla Queste sole tre storie Tra un carciofo Aspetta Questo però è Turchia News Quindi comunque Ho voluto anche Uscirmene un po' Dalla mia comfort zone E farvi volare Cioè Il giornale turco Si chiama Che ovviamente Non dice Non si chiama Turchia In lingua turca Si chiama però Turchia News Capito Anche per loro Mi piace Mi piace Concordo Sandro Mi hai reso Mi hai reso giornalista Io Che da oggi Chiederò Che Bilba Risenti con un'accezione Diversa E tu avresti denunciato Però L'animale tradente Certo Tu si è vero Certo Dico in quella di prima Però nella storia di prima Denunciato in che senso Tu avresti detto Avresti sporto Una denuncia Riguardo I due che scopavano Nel letto tuo Perché io Io ho detto Che non l'avrei fatto Ma poi no Bastardi Allora Più che denunciato Mi piace Il fatto che tu abbia Confessato Le tue capacità Manipolatorie Finalmente Per l'una in pesce Che non si è altro Che lui se siede Fa venire Durante una riunione Di condomini E fa Dobbiamo parlare Perché non voglio più pagare l'affitto Come hai intenzione Di chiedermi scusa Come hai intenzione Di pagare le mie spese future Perché io ho un viaggio a Bora Bora E ho detto di sì Alla mia madre Capito Mi piace il fatto che Confesso Forse anche io Avrei cercato Magari Tranne vantaggio Gli avrei detto Che ne so Una scena Dalla rossicinare Mi fa magna Quanto voglio Tu invece Perpetuato Non pago l'affitto Per l'anno Quando mi chiamavi Fro Diceva Mi chiamavi Fro Amo Sei la tipa Che era censurata Che mi raccontavi Non posso rivelare La mia dignità Comunque Ci siamo Direi che è il caso Di andare verso La nostra rubrichetta Oggi Prendo la penna Meno scriviamo le parole Anche perché io C'ho tre news Ma c'ho comunque Due parole E ce l'ho già Le mie Non vedo la rivitte Comunque Andiamo Jingle Lingami Ora Ho iniziato io Se ci avete visto Cosa stavamo cercando di fare Maneggiavamo un carciofo esplosivo Per chi ci poteste vedere Mentre arriviamo al cuore Allora Inizio io Faccio un piccolo ricapio Ho parlato di Baby Rindy E di tutta la questione Legata a chi è Marta Chi non è Marta Attori nella vita vera Attori nella vita falsa Un film da consigliare Una serie Serie Una mia serie Invece vi ho portato Nella complessità Del dramma regionale Esatto Con un piccolo escursus In Turchia Perché ho detto Comunque siamo ragazzi Che hanno un passaporto E lo vogliono utilizzare Posso dire Che così Allora io Come parole chiavi Sicuramente ci metto Stalking Ok E qua la faccio difficile Lo so E poi storia vera Io Volevo mettere Flora e fauna Perché Ci sta lo carciofo E di là E pappagalli E il gatto Quindi ti direi Flora e fauna Anche locale Flora e fauna Flora e fauna Locale Ok Bravissimo È difficile Stavolta Lo so ma loro Non sapranno Che in realtà C'è un grandissimo taglio Un'altra batteria Della macchinetta Per capire questa storia Tolgo stalking E allora No 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 Dai stalking Storia vera Flora e fauna Ragioniamoci Mamo Ma forse ce l'ho E che sia Winx Vai Perché attenzione Attenzione Allora Flora Winx potrebbe essere Top è una Winx Allora Winx C'è una Flora Ok Stalking Perché in Winx Dark Bloom Tutta quella storia strana Comunque Loro Inseguite dal male Comunque Che si fidanzati un po' strani Che di tanto cambiano volto Esatto Che Riven e Musa Riven e Musa Che Quelli ce l'hanno Una storia di Aiuto Esatto Storia vera Perché Che voi ci credete o no Alfea E' ambientata No a Pesaro A Loreto Oh Vela a vedere Vela a vedere Vela a vedere È tipo la basilica Per noi marchigiani Le Winx sono una storia vera Viene me la contestata E fa una Cioè Gioco degli opposti Alfea sembra torvergata Per quanto è Comunque piena di vegetazione Ma amo Noi Ragazze Del Winx Club Sandro Dai Non avevo capito Non è che siccome hai fatto 29 anni Ma scusate Winx La tua mano Nella mia Ma questo no È al finale Quando fa Energia Io voto per Winx Le cose belle Devono stare con le cose belle Rai avete visto Che fanno il remake Tutti Fanno cacare Sembrano che fanno schifo Ma continuate fate Porca puttana No che mi fate il remake Eh ma ciao Eh lo so Mi hanno buttato via fate Però continuate fate Cazzo Io l'ho vista Sai Ancora prima Vi perdete un prodotto Raga secondo me Quindi abbiamo detto Posso dire una cosa Un attimo Assi schermi Raga Certo Qualcuno Assi schermi A ste orecchie Più che altro Qualcuno ha mai visto The Secret Circle Una serie che è durata Una stagione E poi l'hanno fatta finire Ma era fatta da dio E ci sta Una delle protagoniste È importante Ha fatto forse H2O Non mi ricordo Comunque Cioè Raga Io ho bisogno di parlare Di qualcuno The Secret Circle The Secret Circle Non The Circle No no The Secret Circle Ok Era famosa ai tempi Io la seguivo Perché l'amica mia Della classe Una volta mi fa seguite Era Ma ha ingarrato Con questa cosa Durante il periodo Egli E poi era Superiore Ok Però Improvvisamente Sparita Perché è fatta una serie The Secret Circle Ho capito Australiana Quindi È australiana? E se c'è H2O Stato in denso No Però mi sa che lei C'entrava con Oh Sleepover Club Comunque Lei fa parte di quel giro Sì Comunque Volevo sentire un po' di vicinanza Volevo fare un po' una pelle No Però Parlocele se vuoi Mi piace Poi sicuro C'è Bellina C'entra la mazzia nera C'è questa scena Eh esatto Avevo capito Avevo capito C'è molto figa Comincia con l'insendio Mi piace Cioè Non ve la Che cazzo la mazzia fa Faccio deludere le persone Eh no Non è Non è conclusa Non ha proprio conclusione La prima stagione No amo Non è che è la conclusione Letteralmente Tu non aspetti altro Che la seconda stagione Che non esiste Termina proprio con una scena Che tu dici Con un cliffhanger Con un cliffhanger Amo che è un cliffhanger Letteralmente poi è stato una cliff Stanno proprio su un Ma fermo Non è caso Un fanzario Beh ragazzi Grazie per averci sentito Noi vi aggiorniamo Su quello che possiamo fare Cosa non possiamo fare Perché Che mi sa che dalla prossima puntata Ci sta un po' Un cambiamento Esatto Cambiano molte cose Torna Zizi E con lei ci tornano anche un po' Delle cose belle Potremmo dire Adesso però dobbiamo capire Perché ci saranno le nomination Dovete dirci Chi eliminare Zizi O Marty Apriamo il televoto Tu ti senti molto sicuro Di questo ruolo Lui non si mette nel sondaggio È che non se l'aspettavano Dovete vedere le facce ragazzi Direbbe Taylor You should see your faces Allora Direbbe Billie Eilish You should see me in a crowd Anche Anche Quindi no Quello che volevo dire Dalla prossima settimana Magari ci sta qualcosa di nuovo Che voi noterete Ve lo dico Sins Esatto Ma non vi diciamo altro O forse sentirete Chi lo sa Ma io butto Butto degli indizi uniti a me Se volete ascoltare Un altro potevi non saperlo Aspettate mercoledì prossima Alle 19 Mentre per un povero di noi Un povero di voi O questa nuova struttura Che abbiamo trovato Con le storie che leggiamo nel mentre Ormai sembra essere diventata Un po' una fissità La nostra cosa Ma anche con la posta del cuore Che randomicamente C'è la domenica Dobbiamo ancora capire Con che cadenza Tutte le domeniche Alle 15 Totale Poi ricordatevi Se vi va di ascoltarci YouTube insieme a Spotify Abbiamo anche il video E rimarrà questa cosa Perché facciamo un po' Le pick me girl Qualche puntata fa Oddio no Forse non sappiamo Ci vedrete Ci vedrete sempre raga E vi invitiamo A interagire Con la domanda aperta E con il sondaggio Che comunque a noi C'è sempre utile Per arrivare a più persone possibili Perché la piattaforma La vede come un'interazione Benissimo E se le puntate non vi bastano Vi aspettiamo sugli altri social Perché siamo su Instagram E anche su TikTok Come pop Tattino basso il podcast Voto badass brinze Di 5 stelle Dopo la storia di Sandro Anche di stalking Siete così sicuri Che se non mettete 5 stelle Sandro non vi busserà Alla porta Magari c'è chi però Ha voglia di vederteli E chi ha la vittima E chi ha il carnefice In quel caso Siete voi le vittime Ma soprattutto Tu ti senti la fashion carnefice? Perché sono la fashion vittima Ciao 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 Grazie a tutti.